Scusa, se ti dico Pilastro, cosa ti viene in mente? È il quartiere di Bologna Cioè, Pilastro c'è un paese, no, è una fermata del 20, Pilastro, è una direzione del 20 Cosa sai? Che, insomma, non è proprio una zona tranquilla Ogni città ha le proprie periferie, la zona non è il massimo Ma cosa sapete del Pilastro? Che idea? Posto brutto Esatto Che c'è uno studentato lì intorno e che tutti i ragazzi dell'Ossentato non ci vogliono mai andare al Pilastro perché hanno tutti paura È una zona che hanno riqualificato abbastanza, ma il degrado in alcuni posti è evidente Dovrebbero venire a viverci prima di ripetare così Non lo so, anche perché, ma il Pilastro mi piace così com'è Gli stereotipi sono duri a morire, soprattutto per chi al Pilastro non ci abita e non ci è mai passato Ma chi vive in questa zona racconta un'altra storia In occasione dei 50 anni del Pilastro è partito il progetto Pilastro 2016 Sì, questo progetto deriva da un'idea del sindaco, da una voglia del sindaco di non fare del cinquantesimo del Pilastro solo un'occasione di passerella Ma un vero e proprio lavoro su questo territorio che cambierà molto nei prossimi anni L'anno passato sono state rifatte le facciate di numerosi palazzi Che davano una sensazione di abbandono Il progetto Notag è un progetto che come amministrazione vediamo molto importante Perché riesce a dare lavoro alle persone della zona E riesce a migliorare la sensazione di stare in un bel quartiere Cosa che io credo sia il Pilastro Il Pilastro è diventato un quartiere da zona 30 Quindi con una mobilità più bassa Forse non tutti sanno che al Pilastro c'è il parco Pierpaolo Pasolini Che è il secondo parco più grande di Bologna dopo i Giardini Margherita E uno dei primi passi del progetto Pilastro 2016 È stato proprio quello di creare una nuova illuminazione LED Per illuminare il parco durante la notte e i sentieri E sono partiti i lavori della nuova arena Negli ultimi 7-8 anni abbiamo iniziato delle avventure di riqualificazione urbana Attraverso il metodo di scuola-cantiere Ci sarà un grande palco Prima di tutto sarà la fondazione Dopo questo palco che è già un punto di riferimento Lo useremo per allargarlo Useremo le misure con tutti i riferimenti per allargare E farlo diventare più largo Per il Pilastro e per la zona vicina al nucleo storico del Pilastro Quindi per tutta l'area a nord-est Diventerà un po' una sorta di esame di maturità L'arrivo di Fico è un'opportunità per quel territorio molto grande Tutta la parte economico-finanziaria che c'è alle spalle del Pilastro Era una parte molto rilevante dell'economia della città Quindi abbiamo prima di tutto coinvolto le aziende che sono lì vicino Chiedendogli di fare con noi un percorso Che portasse alla costituzione di un'agenzia di sviluppo locale L'idea è quella di integrare quindi tre pezzi di territorio diversi e complementari Per costruire nel tempo un nuovo distretto di scala metropolitana La porta di accesso a nord-est alla città di Bologna L'agenzia si propone quindi di associare piccole imprese agricole non Esercizi commerciali, associazioni Siccome il bisogno più urgente in particolare del Pilastro Che è l'area residenziale è il bisogno di lavoro Si è pensato che l'agenzia potesse diventare socio-sostenitore di una cooperativa sociale di comunità Fornendo incomodato d'uso gratuito alcuni immobili in cui sviluppare delle attività imprenditoriali Nello stato attuale si è costituita l'associazione Mastro-Pilastro Composta da una ventina di abitanti del Pilastro Che rappresenta il primo nucleo costitutivo di quella che sarà la futura cooperativa di comunità Le persone che mi chiamano al telefono normalmente sono persone di una certa età Con necessità minime Servizio alla persona, accompagnamento degli anziani Piccole tinteggiature, piccoli traslochi Credo che siano state contente Poi ci conoscono più o meno tutti Abbiamo fatto un gruppetto per vedere qua, muovere questo quartiere Molte persone ne hanno parlati bene di noi Ma ci sono altre persone che quando ci hanno visto non se l'aspettavano Mi hanno chiesto di che cosa si tratta E noi gliel'abbiamo spiegato un po' dal nostro Mastro-Pilastro 2016 Speriamo che funziona, sì Noi siamo contenti Io spero che la contentenza si trasformi in lavoro vero e proprio per tutti Siamo qui in diretta dal Pilastro per una giornata particolare La redazione Pilastro 2016 è una redazione di cittadini o di ex cittadini del Pilastro Molto diversi tra di loro e insieme realizziamo un blog I cittadini giornalisti sono stati capaci e sono capaci di raccontare Sia tutto quello che sta avvenendo intorno al progetto Ma anche raccontare un territorio Un territorio pieno di persone, di storie, di associazioni che lavorano da tanto tempo I 50 anni non sono proprio pochi Sono stati 50 anni intensi In cui c'è stato un sacco di patrimonio e di gente Che si è spesa creando una rete di associazionismo Di welfare sociale, di autogestione Il Pilastro vecchio non c'era neanche il gas, ne ricordate? Sull'autunno abbiamo cominciato a sentire il bisogno del riscaldamento E' attorno a questa mancanza che si creò praticamente il comitato inquilino Siamo a DOM, la cupola del Pilastro È uno spazio culturale Gestito dalla compagnia teatrale La Minarie Abbiamo raccolto complessivamente 15 Non possiamo chiamarli archivi nel vero senso del termine Ma piuttosto raccolte Praticamente quasi tutte le realtà che hanno operato su questo territorio Altro lavoro che ha fatto il cantiere comunicazione È un laboratorio ormai di due anni all'interno delle scuole medie Saffi del Pilastro E gli studenti hanno raccontato insieme a noi Attraverso un videodocumentario I luoghi che loro amano di più del Pilastro Questo è uno spazio di vicinato È uno spazio aperto alla cittadinanza Perché questo è il cantiere comunità È un luogo aperto nel quale le persone possono venire tutti i giorni della settimana In particolare dal lunedì al venerdì Ed è cogestito con le associazioni del territorio E anche le parti istituzionali Quindi servizi socioeducativi Partecipazioni maggiori le abbiamo raccolte attraverso la festa del baratto I soldi sono assolutamente esclusi Si portano delle cose che non si usano più Ma che comunque sono ancora in buono stato E si scambiano con altre cose, con un sistema di buoni Siamo al centro commerciale del Pilastro Questa è la piazza coperta Qui, come si può vedere Le persone anziane vengono perché è più caldo che fuori I bimbi vengono a giocare E le persone vengono nei negozi a fare la spesa Qui, sopra qui, al secondo piano Ci sarà la sede della casa di comunità E dell'agenzia di sviluppo La casa di comunità sarà dentro la sede del CDH CDH Centro Documentazione Handicap L'arrivo in questo quartiere per noi è stato veramente una cosa inaspettata Perché abbiamo subito sentito come la vivacità dell'ambiente Delle associazioni, ma anche dei cittadini stessi Ci hanno accolto a braccia aperte Ed è stato abbastanza naturale e scontato Intessere subito relazioni Adesso devo dire che come quartiere è bello Perché c'è un sacco di verde Perciò rimesso a nuovo Diventerà uno dei più bei quartieri di Bologna Secondo me Mi piace tutto di come è fatto il Pilastro Perché è unico Mi piace tutto di come è fatto il Pilastro Grazie a tutti.